Nel punto esatto di confine tra Pescara e Montesilvano si apre il cantiere del filobus sulla strada Parco. In mattinata conferenza stampa dei rappresentanti delle opposizioni centro-sinistra al Comune di Pescara, nel pomeriggio anche sit-in con manifestazione popolare. Roberto De Camillis, Pescara Città Ponte, perché ritenete questo un binario morto? Noi sappiamo, riteniamo che questo sia un binario morto. Abbiamo chiesto in aula, in Consiglio Comunale, che venissero portati progetti ulteriori, quelli che avrebbero visto lo sviluppo di questa filovia oltre la strada Parco, mai questo è avvenuto. Io personalmente ritengo, ma credo tutta l'opposizione, che questo sia definito un binario morto perché questa filovia arriverà via Leopoldo Muzzi e là morirà. Questo non credo possa essere di aiuto al traffico della città. Sarebbe stato d'aiuto se si fosse previsto un ulteriore sviluppo al di là di via Leopoldo Muzzi per poi proseguire sul Corso Vittorio, per arrivare a Francavilla e per arrivare anche a Chiedi. Chiediamo che prima di arrivare a fare tutto questo che deve essere fatto, cioè la palificazione, si potrebbe benissimo tentare intanto con dei filobus elettrici che possono fare lo stesso servizio che dovrebbe fare il filobus per vedere veramente quante sono le persone che fruiscono di questo servizio. Perché io credo che prima di deturpare, tra parentesi, questa strada parco, io credo che sia necessario sperimentare e provare. Ad Elchi Sulpizio dell'Italia dei Valori, voi chiedete che la parola vada ai cittadini perché questo pezzo di strada è loro innanzitutto. Ma noi lo stiamo sostenendo ormai da qualche anno. La strada parco è dei cittadini pescaresi e deve rimanere dei cittadini pescaresi. A questo punto diciamo stop ai lavori, stop a questo cantiere, la parola cittadini. La parola per risolvere questa diatriba sia alla strada parco che non alla strada parco deve essere risolta da una semplice parola, referendum.